Carlo Alberto di Savoia, re di Sardegna, ha legato il suo nome alla concessione del cosiddetto Statuto Albertino, testo fondativo della moderna storia costituzionale italiana, e dalla prima guerra di indipendenza. Nasce a Torino il 2 settembre 1798 da Carlo Emanuele Principe di Carignano e Maria Cristina di Sassonia Curlandia. Membro di un ramo cadetto della dinastia dei Savoia, è educato a Parigi e Ginevra, e torna in Piemonte solo nel 1814, dopo la sconfitta di Napoleone e la restaurazione dei Savoia. Poiché il ramo principale dei Savoia è privo di eredi diretti, il giovane principe viene riconosciuto come erede al trono del regno di Sardegna. All'inizio degli anni venti, Carlo Alberto si avvicina a gruppi liberali insofferenti del duro governo di Vittorio Emanuele I di Savoia. Durante i moti del 1821 che portano l'abdicazione di Vittorio Emanuele I in favore del fratello Carlo Felice, assume la funzione di reggente, e concede la Costituzione. Ma è sconfessato, dal nuovo sovrano, che procede ad un'energica repressione. Cade allora in disgrazia e si sposta a supposizioni legittimiste, al punto da partecipare all'espedizione militare lanciata dai governi della Santa Alleanza, contro il governo costituzionale spagnolo, combattendo nella battaglia del trocadero. Nel 1831 succede a Carlo Felice ed avvia una cospicua attività di riforme amministrative e giudiziarie, culminata nella istituzione del Consiglio di Stato e nella revisione dei codici. Allo stesso tempo riprime il movimento mazziniano e rifiuta di concedere una Costituzione fino a 1848, quando sulla spinta delle manifestazioni popolari concede lo Statuto Albertino, destinato a rimanere per un secolo, la Costituzione italiana. Con la promulgazione dello Statuto, Carlo Alberto pone il Regno di Sardegna nel campo delle monarchie costituzionali e crea le premesse per il suo futuro ruolo nell'unificazione italiana. Nello stesso 1848 scende in campo a favore degli insorti milanesi ed inizia la prima guerra di indipendenza contro l'Austria. Dopo le iniziali vittorie di Pastrengo e Goito, le sconfitte di Custosa e Milano lo costringono all'armistizio. All'inizio del 1849 riprende la guerra che si rivela sfortunata. L'esercito piemontese è sconfitto nella battaglia di Novara e a Carlo Alberto che aveva cercato inutilmente la morte in battaglia, non resta che abdicare, il 23 marzo 1849, in favore del figlio Vittorio Emanuele II. Si ritira in Portogallo, dove muore pochi mesi dopo, il 28 luglio 1849. Nonostante la mia abdicazione, semmai sorgesse una guerra contro l'Austria qualunque sia la potenza da cui le venga mossa, accorrerò spontaneo anche qual semplice soldato tra le file dei di lei nemici. Grazie a tutti. Grazie.